Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano il ministro per le politiche agricole Teresa Belanova. Questa mattina è stata a Noci per visitare un'azienda del settore lattiero caseario. L'occasione è stata utile per fare anche il punto sulla situazione delle politiche agricole in Puglia e del gelo tra Italia Viva e Michele Emiliano. Un settore che a livello nazionale tocca un fatturato di circa 15 miliardi di euro. La Puglia che pesa sul totale con una percentuale del 12,3%. Il ministro per le politiche agricole Teresa Belanova ha visitato a Noci lo stabilimento di Delizia S.p.A., una delle più importanti realtà del territorio nel settore lattiero caseario. L'azienda che con il marchio Deliziosa solo con le vendite in Puglia registra un fatturato annuo di 23 milioni di euro ha aperto le porte al ministro che da Noci ha dato delle buone notizie per quello che riguarda le esportazioni. In primo luogo l'abolizione dei dazi per i prodotti venduti negli USA e in secondo luogo l'avvio di un'interlocuzione con Russia e Unione Europea per trovare una soluzione all'embargo. Stiamo investendo molto sulla qualità e sulla filiera che deve rispettare le norme della buona coltivazione, della buona trasformazione. Vogliamo far capire al ministro la Puglia quanto vale nel mondo agricolo. Ultimamente le istituzioni, la regione non ci sta aiutando, i PSR bloccati, progetti anche se lo vuoi fare, tanta documentazione, quindi o sei pazzo e sei duro e dici io ce la devo fare, come gli ultimi investimenti che non sono stati assolutamente finanziati. La ministra ha fatto anche il punto sulla situazione politica in Puglia e noto il no di Italia Viva all'appoggio a Michele Emiliano. Lo stesso Renzi aveva anticipato che il suo partito avrebbe presentato alle regionali un candidato da opporre al governatore uscente. Lo stesso Emiliano nei giorni scorsi però aveva inviato una lettera al ministro per chiedere un incontro sulla questione dei prezzi delle olive, un appello a cui la Bellanova ha risposto così. Io agli incontri, siccome sono una persona educata, rispondo sempre e rispondo non solo agli incontri che vengono chiesti dalle singole regioni. Come dicevo prima c'è una prassi che io ho instaurato al Ministero dell'Agricoltura che ogni mese tutti gli assessori regionali all'agricoltura incontrano il ministro. L'assessore regionale di questa regione purtroppo non trova il tempo di partecipare a questi incontri. E proseguiamo sempre con la politica. Si trasferisce da Lecce a Squinsano la festa delle radici organizzata dalle sardine per il prossimo 19 febbraio per costruire. Spiegano corpo a corpo, come nello stile delle sardine, quel rapporto tra le persone che è l'unica leva possibile contro populismi e la strumentalizzazione politica, il ristagno della ragione. A Squinsano nello stesso giorno è attesa infatti la visita proprio di Matteo Salvini. Avevamo detto, dicono le sardine, che non avremmo inseguito Salvini nel suo peregrinare, ma se una comunità chiede aiuto il dovere delle sardine è quello di accorrere come fa un banco in mezzo al mare di fronte ad un pericolo imminente. Mercoledì 19 continuano a Squinsano, saranno a confronto due Italie, quella sovranista che ha reso la paura e quella delle provocazioni infrastrutture verbali violente al servizio del consenso elettorale, quella che torna nelle piazze con un libro e principi costituzionali da rendere esigibili per tutti. E voltiamo pagina e parliamo dell'incontro ecumenico che si terrà a Bari il prossimo 23 febbraio, la prossima domenica. Si entra nel vivo dei preparativi per Mediterraneo Frontiera di Pace e la conferenza che per la prima volta riunirà le chiese cattoliche del Mediterraneo e che si concluderà con la messa di Papa Francesco proprio domenica 23 febbraio. Tutti i dettagli nel servizio di Barbara Cirillo. Un tratto di Corso Vittorio Emanuele è chiuso al traffico, quello compreso tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari, ma è solo l'inizio dei preparativi per la celebrazione eucaristica di Papa Francesco in programma domenica 23 febbraio. Nei prossimi giorni di vieti di transito e fermata si estenderanno anche le vie adiacenti, ma tutto sarà comunicato per tempo dalla segnaletica stradale che sarà fissa giorno per giorno. Il 22 febbraio i locali su Corso Vittorio Emanuele chiuderanno al pubblico per permettere alle forze dell'ordine di bonificare l'area che ospiterà non soltanto il Pontefice, ma anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e probabilmente anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Si comincia così con il montaggio del palco che proseguirà nei prossimi giorni. Intanto in Basilica ci si prepara per l'inizio dei lavori di Mediterraneo Frontiera di Pace. Mercoledì l'apertura della conferenza che per la prima volta riunisce Vescovi delle Chiese Cattoliche che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Giovedì si entra nel vivo dopo la messa in Basilica. Ci si riunisce nel Castello Svevo e ci si confronta sul tema consegnare la fede alle generazioni future. Dialogo e confronto, le parole d'ordine anche per la giornata successiva che ha come tema Chiesa e Società. Incontri, tutti che porteranno alla scrittura di un documento che sarà poi presentato a Papa Francesco nella giornata conclusiva. Si comincia dunque così ma il futuro potrebbe portare a una periodicità degli incontri proprio a Bari, da sempre ponte tra Oriente e Occidente. Con lo spirito positivo e propositivo di una Chiesa che vuole anche attraverso questa occasione lanciare un grande messaggio di pace. E proprio in merito all'incontro ha parlato anche l'Arcivescovo di Bari e Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci. Ascoltiamo le sue parole. E' in continuità con un cammino finora vissuto. Non dimentichiamo che dalla traslazione di una reliquia di San Nicola a Mosca, San Pietroburgo, all'incontro con il Patriarca Bartolomeo e poi il 7 luglio 2018, l'incontro del Papa con i Patriarchi Ortodossi e la Chiesa Evangelica per la pace nel Medio Oriente, è un approdo ulteriore questo dei Vescovi del Medio Oriente. Però questi Vescovi sono cattolici, questo va sottolineato perché la realtà del Mediterraneo è una realtà molto complessa. Quindi è un confronto tra i Vescovi cattolici che poi avranno la possibilità di presentare al Santo Padre il frutto di queste riflessioni e l'intervento del Papa durante la celebrazione eucaristica del 23 suggererà e da lui ascolteremo delle parole che siano di orientamento. Passiamo alla pagina della cronaca. Hanno rubato un utilitare a Corato e una volta intercettati dai carabinieri sulla provinciale 231 hanno dato vita a un inseguimento terminato ad Andrea. Per questo nelle prime ore della scorsa mattinata sono scattate le manette ai polsi di un 28enne pregiudicato e di tre donne di 38, 21 e 19 anni, due delle quali incensurate. Tutti gli arrestati sono originari di Corato. I militari una volta bloccata l'auto in via Monte Faraone ad Andrea hanno anche dovuto inseguire i ladri in un ultimo e disperato tentativo di fuga a piedi. Per i quattro che dovranno rispondere del reato di furto aggravato sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'autovettura invece è stata restituita al legittimo proprietario. E adesso ci spostiamo ad Altamura. Volevano vendicare l'omicidio del boss ma spararono alla persona sbagliata. È successo nel settembre del 2014 ad Altamura. Dopo una lunga indagine i carabinieri hanno arrestato due persone. Sentiamo. Il 24 settembre del 2014 ad Altamura spararono contro Pietro Bigi, cinquantenne incensurato, scambiandolo per il pregiudicato Giovanni Lo Iudice, padre del killer che nel 2010 aveva ucciso il boss Bartolomeo D'Ambrosio. Dopo una lunga indagine i carabinieri hanno arrestato il 49enne altamurano Mario D'Ambrosio, fratello di Bartolomeo, e il 34enne barese Alfredo Sibilla. Per loro l'accusa è di tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno accertato che Mario D'Ambrosio, per vendicare l'omicidio del fratello avvenuto per mano di Michele Lo Iudice, aveva incaricato Alfredo Sibilla e un complice non ancora identificato di uccidere il padre dell'assassino. L'agguato si doveva concretizzare all'ospedale Perinei, dove D'Ambrosio aveva avuto notizia di una visita diagnostica a cui lo iudice avrebbe dovuto sottoporsi. I killer armati di pistola, calibro 45, in possesso di una fotografia della vittima designata, la individuarono erroneamente in un uomo che usciva dal nostro comio ed esplosero contro di lui tre colpi di pistola che lo colpirono al torace e al braccio. Si trattò di un tragico scambio di persona, in quanto l'uomo ferito è un innocente carpintiere di altamura che si trovava in ospedale per accertamenti legati ad un incidente sul lavoro. L'uomo, a causa delle lesioni riportate, non è stato più in grado di svolgere la sua attività lavorativa. Cambiamo argomento, la pagina della Sanità, un saluto rosa all'unità operativa di senologia al Policlinico di Bari dove sono stati inaugurati quattro nuovi apparecchi mammografici per la mammografia in 3D. Quattro nuovi mammografi 3D che garantiscono l'individuazione di lesioni inferiori a 3 mm con un 20% in meno di raggi X. La tecnologia continua a fare passi da gigante nell'unità operativa di senologia del Policlinico di Bari. I quattro macchinari inaugurati oggi vanno ad integrare il nuovo sistema diagnostico della Breast Care Unit, il centro di secondo livello unico in Italia che ha un afflusso medio di 100 pazienti al giorno e in cui è possibile accedere entro 48 ore da una diagnosi sospetta. E soprattutto dei sistemi di biopsia 3D guidate in isodose, quindi vuol dire riconoscere lesioni sempre più piccole, sempre meglio visualizzabili e possibilità di aggredirle con procedure bioptiche ad una dose di radiazioni sempre inferiori. Ci consentirà di migliorare tutti i percorsi diagnostici della Breast Unit, di arruolare in questi percorsi sempre più pazienti affinché le nostre diagnosi siano soltanto un incidente di percorso ma non una condanna come magari lo era in passato. Con il nuovo sistema dal 3 dicembre al 3 febbraio sono già state eseguite 77 biopsie, 47.000. Le prestazioni effettuate nella Breast Unit di senologia del Policlinico, numeri che sono dalla parte delle donne, soprattutto di quelle che combattono contro il cancro al seno. Oggi la sopravvivenza è notevolmente aumentata, riscontriamo lesioni sempre più subcliniche, l'incidenza ovvero il numero di nuovi casi aumenta sempre di più ma questo è dovuto al fatto che la tecnologia consente di individuare lesioni sempre più piccole. Quindi ne riscontriamo molti di più ma ci si salva perché diventa soltanto una fase terapeutica e una parentesi della propria vita. E parliamo adesso invece del primo polo dell'infanzia comunale a Iapigia, realizzato in una vecchia scuola materna che aveva soltanto due sezioni. Questa mattina all'Open Day alla presenza del sindaco De Caro, dell'assessore alla politica educativa, Paola Romano e del presidente del primo municipio, Lorenzo Leonetti. Si tratta del primo polo dell'infanzia realizzato a Bari che accoglierà a partire da settembre i bambini da 0 a 6 anni. La sede in via Peucezia numero 80 è stata ristrutturata ad opera del comune ed è costato il lavoro 280 mila euro. L'asilo nido sarà aperto fino alle 18. Passiamo agli spettacoli. Debuterà in prima nazionale questa sera al teatro Piccini La Nave Dolce, lo spettacolo teatrale del Tib, teatro ispirato agli eventi dell'8 agosto 1991, quando la nave Vlora attraccò nel porto di Bari. Tutti i dettagli nel servizio di Maria Alessia Sforza. È il weekend più romantico dell'anno, ma è anche il periodo di carnevale. Dalle cene per due alle sfilate in maschera è tutto pronto a Bari per un sabato sera ricco di cuori e coreandoli, manifestazioni e spettacoli. Al via la sesta edizione del carnevale a Bari Vecchia, la manifestazione organizzata dal Circolo Acli Dalfino con il patrocino gratuito del primo municipio del comune di Bari che entrerà nel vivo questo pomeriggio alle 18.30 in piazza Cattedrale. Il corteo delle maschere sfilerà insieme ai gruppi musicali e folcloristici tra le strade della città vecchia e del centro murattiano per poi tornare, seguito dall'immancabile carro funebre di Ziroc, nel piazzale antistante la Cattedrale e dare il via alla Sagra del Calzone tra balli, musiche e ospiti d'onore. Debutterà questa sera in prima nazionale al Teatro Piccini La Nave Dolce, il nuovo progetto di tip teatro, contesto e regia di Daniela Nicosia e l'interpretazione del giovane attore barese Massimiliano Di Corato. Lo spettacolo è frutto di una lunga ricerca su documenti, giornali e filmati tra cui quelli conservati negli archivi storici di Telebari Tre voci, tre lingue e tre punti di vista per raccontare una vicenda esemplare che apre lo sguardo sul panorama politico europeo degli anni 90 e ritrova oggi, piena attualità, appuntamento questa sera alle 21 al Teatro Comunale Niccolò Piccini e per il fine settimana dedicato all'amore andrà in scena questa sera alle 21 e domani pomeriggio alle 18 al Teatro Abiliano Di Bari Questo Amore, lo spettacolo di danza contemporanea di Leonardo Annese e la sua compagnia che sarà accompagnato dalle poesie di Jacques Prevert con la voce di Vito Signorile. Al Teatro Forma alle 20 e 30 invece le associazioni Buffoni del Destino e di Coevent proporranno lo spettacolo Evitare l'uso prolungato, un atto unico scritto da Fabiano Marti e portato in scena da lui stesso insieme a Mario Pulpito uno spettacolo colmo di esaltanti momenti comici con un finale a sorpresa molto particolare e appuntamento invece domani mattina con la quarta edizione della Running Earth la manifestazione podistica solidale per la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari la partenza è fissata alle ore 10 da Piazza del Ferrarese E adesso la pagina dello sport e il calcio dobbiamo ancora migliorare su tanti aspetti soprattutto in quello psicologico non ho ancora visto una squadra esaltata così mister Vivarini alla vigila della gara casalinga contro il Picerno la gara dell'SSC Bari che noi seguiremo come di consueto con Radio Bari con la radiocronaca di Cristian Siciliani e poi con i commenti in studio con Barbara Cirillo ma ascoltiamo le parole di Vivarini che noi dobbiamo rimanere concentrati proprio su noi stessi nel cercare di andare a migliorare tutti gli aspetti di questa squadra proprio tutti dall'aspetto caratteriale bisogna avere ancora di più personalità ancora di più forza caratteriale in mezzo al campo sotto l'aspetto tattico ci possiamo muovere molto meglio in fase di possesso palla e dobbiamo fare ancora meglio in fase difensiva perché sotto alcuni aspetti qualcosa sbagliamo sempre quindi bisogna andare a limitare gli errori che si fanno e quindi questa è la strada che ci porta a mantenere questo trend e a mantenere gli obiettivi sempre vivi è un giocatore importante per noi Valerio il nostro capitano quindi di conseguenza è chiaro che si valuterà sempre domani ma penso che lui sia molto disposto anche a stringere i denti però comunque si è allenato quindi questo mi fa ben sperare allora noi venivamo da una partita giocata bene in casa dove si erano ben comportati sia Schiavone, Maita che Schiavone è chiaro che a Monopoli siamo stati meno giusti meno brillanti quindi di conseguenza ho la possibilità anche di modificare perché chiaramente quando uno fa bene mi piace dare continuità nel momento in cui ci sono qualche problemino qualche situazione è chiaro che si rimescolano un pochettino le carte e dopo la pioggia di San Valentino invece torna il sole il bel tempo con ogni probabilità caratterizzerà anche domenica 23 febbraio giorno in cui a Bari è in programma la visita di Papa Francesco sentiamo il meteo del colonnello Vita Antonio Laricchia bene buongiorno buongiorno a tutti beh come al solito passata la boriana ed ecco il nostro amico maestrale che soffia in maniera moderata è allontanato velocemente il corpo nuvoloso che ci ha interessato il ponte giorno di San Valentino splendida giornata come sarà tutto l'intero weekend con cielo sereno addirittura poco nuvoloso ma non nulla di più qualche nube di bel tempo e il vento di maestrale che è il tema principale con temperature frizzanti notte, tempo e primo mattino durante la notte e il primo mattino temperatura attorno ai 10 gradi nelle ore più calda la giornata sfioreremo i 15-16 ma nulla di più cala il vento di maestrale che ci ha regalato e ci regalerà meglio che un bellissimo weekend i venti gireranno a Scirocco ma ancora tempo stabile e soleggiato purtroppo per ancora alta pressione quindi l'inverno nemmeno a parlarne e andremo avanti così fino a mercoledì quando il vento di Scirocco tenderà a rinforzare richiama una perturbazione atlantica di nuovo maltempo tra giovedì e venerdì con qualche pioggia qualche sporadico e isolato rovescio temporale temperature ancora frizzanti però ancora una volta per quanto riguarda il fine settimana ci sbilanciamo perché la domenica ci sarà la vista del Papa a Bari vi assicuro il tempo splendido come questo weekend all'insegna dell'amico maestrale cedi sereni o poco nuvolosi e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale l'informazione di Tele Bari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it a tutti un buon proseguimento di serata Il meteo è offerto da ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo una domenica di primavera quasi sull'Italia perché un campo di alta pressione praticamente abbraccia tutta l'Europa meridionale dalla Spagna verso i Balcani e la Grecia passando per l'Italia solamente tra la Liguria e l'Alta Toscana nubi in deciso aumento per i venti che qui sul Mar Ligure ruoteranno di Libeccio quindi da sud ovest carichi di umidità le perturbazioni invece nord atlantiche scorreranno rapidamente sul nord Europa ancora con venti tempestosi sulle isole britanniche Danimarca e Scandinavia sull'Italia quindi assenza di piogge solamente qualcosina in arrivo per lo Spezzino e la Versilia in giornata possiamo notarlo meglio con la prossima grafica dove abbiamo segnalato sulle Vante Ligure qualche debole precipitazione nubi quindi sull'Alto Tirreno ma poi in giornata si estenderanno anche a Est Piemonte Lombardia e parte di Emilia ma senza effetti sul Basso Veneto foschie nebbie nottetempo al mattino sulle rimanenti zone invece del centro-sud una bella giornata soleggiata con temperature oltre i 16-18 gradi maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo il meteo è offerto da sgservicesud.it di Trabi Meteo Grazie a tutti.